Senti giù! Senti giù! Ma ripesta pure tu! Senti giù! Senti giù! Ma ripesta pure tu! Prima un corteo per le strade della città, poi l'incontro con il sindaco di Arezzo. Il Friday for Future di Arezzo colora le strade per sensibilizzare sulle tematiche ambientali. Serve il coraggio di agire subito, dicono i partecipanti, per invertire il fenomeno del cambiamento climatico. Ci avete rotto i polmoni o ancora, questa non è una passeggiata, alcuni degli slogan più gettonati. Questa marcia non è una passeggiata, la nostra voce deve essere ascoltata! I ragazzi hanno poi consegnato al sindaco una lettera dove è spiegata la genesi del gruppo aretino di Fridays for Future e sottolineate le ragioni del loro impegno in vista della salvaguardia del pianeta sulla scia di quelle che sono le parole dell'attivista Greta Thunberg. Sappiamo che Arezzo ha iniziato a migliorare le proprie politiche in favore del clima, ma non è abbastanza! Serve una trasformazione rivoluzionaria! Noi siamo qui per avviare questa trasformazione!